Luca Zingaretti torna, il commissario Montalbano, come sempre temi molto attuali, la scorsa stagione si parlava di femminicidio, questa stagione si parla di migranti, come affronta questo tema il commissario Montalbano? La questione è come l'affronta Luca Zingaretti? Diciamo che il tema non è principale nelle storie, è come dicevamo prima, fa parte del racconto perché il commissario Montalbano opera in una terra che è il primo sbarco, è proprio la frontiera e quindi non si può, oggi come oggi, ambientare qualcosa in Sicilia senza occuparci di questa drammatica vicenda umana, di questi poveretti che scappano da fame, carestie e guerre e quindi essendo peraltro il commissario anche un agente, insomma uno che si occupa di ordine pubblico è ovvio che se ne occupi, il problema è che essendo molto scottante politicamente il problema di questi tempi tutti si preoccupano di sottolineare questo aspetto, ma non è il centro della puntata, la puntata è la storia di un omicidio efferato che viene fatto in una sartoria e da lì partono tutte le indagini. Luca Zingaretti è cambiato in questi vent'anni nel senso che non è ringiovanito, come tutti quanti, e credo che anche il personaggio, il personaggio risente più che di un'età reale, forse dell'età del suo autore, e soprattutto anche di come è cambiato questo paese in vent'anni, di come da dieci anni ormai ci dibattiamo in delle emergenze incredibili, come appunto questa delle migrazioni almeno negli ultimi anni, ma soprattutto di una crisi economica che sono dieci anni che morde i polpacci delle persone che ormai faticano anche in Italia ad arrivare a fine mese, di un'emergenza quella ambientale che è terribile e ahimè forse troppo sottovalutata, quindi diciamo che è un periodo, sono tempi nostri non serenissimi, speriamo che passino, speriamo di riuscire a trovare a queste emergenze delle contromisure efficaci, certo è che almeno per quella ambientale dobbiamo sbrigarci a trovare delle soluzioni. Luca, c'è un omaggio però a un attore e anche a un personaggio stesso che se ne è andato in questi episodi? Io sono molto fiero del fatto che è stata accolta una mia idea, perché è morto un grande personaggio, un grande attore, soprattutto un grande amico, uno con cui nel corso degli anni ero diventato proprio amico, e a un certo punto però il personaggio letterario c'è, è morto l'attore che, l'attore quando un attore fa un ruolo comico non è sostituibile, si può sostituire James Bond ma non puoi sostituire Totò, non è che se Totò fosse morto, non funziona perché il personaggio comico è legato all'attore comico che le interprete, e quindi allora a me è venuta l'idea di dire, signori ma perché non celebriamo insieme ai nostri spettatori che amano il dottor Pasquano, la morte di Marcello Perracchio e lo facciamo morire nel nostro, inizialmente hanno tutti un po' nicchiato, poi per fortuna sono tutti convinti che è un'eccellente idea, l'abbiamo fatta, l'abbiamo scritta, l'abbiamo girata, ed è una delle scene più commoventi che mi sia capitato di girare nella mia carriera. Grazie Luca.